Non c'è inconciliabilità. Cerchio e seno attraverso NT, a cura di VB, domanda Come conciliare la verità della fede con la verità del pensiero razionale? Entità Amedeo, innanzitutto mi preme precisare che quando voi parlate di fede vi riferite alla fede in una religione che, in un certo senso, è codificata da voi stessi. Ricordate, figli, la differenza essenziale è tra ciò che voi intendete con la parola religione e quello che invece rappresenta il termine religiosità. La religione è la forma, gli schemi, i riti che si esteriorizzano e che voi cercate di seguire o che vi hanno inculcato nella vostra attuale esistenza. Mentre il sentimento vero della religiosità è quello che alberga nel vostro intimo e non ha bisogno di codifiche, non c'è inconciliabilità tra il pensiero razionale e questo sentimento, in quanto il sentimento intimo della religiosità trascende l'aspetto materiale umano. Quindi non ponetevi il problema di inconciliabilità tra fede e ragione, ma fate sì che il vostro raziocinio, se vuole, spazi oltre l'aspetto delle forme religiose attuali.